L'accento prudenonese l'ha perso in tanti anni in giro per l'Italia, ma non solo, perché il colonnello Alberto Santini, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, ha in curriculum fra l'altro tre anni in Turchia, da detto militare aggiunto, e altri incarichi per i reparti dislocati all'estero. Arriva nel capoluogo berico dopo tre esperienze di comando a Seregno, Sasso Maggiore e Messina. Ha 50 anni, uno in più di Alessandro Giuliani, nuovo comandante del reparto operativo Vicentino, in carico che è ricoperto fino a pochi giorni fa a Lecco. Per entrambi l'obbligo di immergersi da subito nella nuova realtà. Io ho già parlato stamattina con il prefetto e con il questore, c'è assolutamente condivisione di intenti, il questore e il prefetto ritengono una delle priorità della provincia, questa insieme anche con i profughi che arrivano, quindi sicuramente ci sarà tutta la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine all'unisono, quindi non solo dell'arma dei Carabinieri verso questo fenomeno. Con grande attenzione al lavoro di squadra, Santini e Giuliani hanno predisposto nei giorni antecedenti alla loro presentazione ufficiale un metodo di lavoro che snellisca quanto possibile la comunicazione, sia verso l'esterno che interna, riferita a tutte le stazioni sparse per la provincia di competenza. Questo è un grosso vantaggio, il fatto che noi abbiamo questa articolazione molto così, che va su tutta la provincia e ci consente anche di avere un'attività informativa più proficua e quindi anche riuscire a arginare questo fenomeno che, ahimè, è diventato particolarmente all'ampatto. A Padova e Treviso ha già appunto svolto servizio, ha appunto un modo di conoscere, che differenze si aspettano? Sostanzialmente credo che siano le stesse problematiche che dobbiamo affrontarle con la giusta determinazione. Grazie a tutti.